Ciao a tutti ragazzi siamo Rapi e Molly e bentornati in un nuovo video Sì ragazzi sto per arrivare la stagione più bella dell'anno perché sto per arrivare il Natale Infatti abbiamo il nostro cappellino personalizzato di Natale Sì questo cappellino in realtà sembra un po' quello degli elfi dispettosi quindi Molly Aspettati tanti dispettucci per questo Natale perché ci divertiremo un sacco Ragazzi guardate il mio bellissimo cappello Questo in realtà è il cappello del Grinch vero ragazzi? Non è il cappello del Grinch Aumori Ma cosa stai facendo? Ancora non è Natale Guarda il mio cappello Il tuo cappello è più lungo dei miei capelli Oggi faremo finalmente l'albero di Natale Siamo prontissimi ragazzi non vediamo l'ora di fare il nostro albero che sarà grande 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 Più di Molly A chi piace fare l'albero di Natale? A me piaceva solo aspettare di aprire i regali sotto l'albero Anche a te Rebi ti piaceva aprire più i regali che fare l'albero? Beh ovvio a tutti piacciono i regali però a me piace un sacco fare l'albero perché poi ci dovremo attaccare un sacco di palline ma non solo Ci avremo delle stelline, dei brillantini, la corona in alto nell'albero che bella non vedo l'ora E poi ragazzi voi adesso lo vedete così bigi bigi piccolino dentro questo scatolino ma in realtà quando lo apriamo sarà enorme Abbiamo comprato un sacco di cose abbiamo comprato queste palline d'oro e queste palline blu che bella abbiamo comprato un sacco di cose io direi di aprirlo Rebi Non vediamolo ora noi abbiamo scelto le palline blu e oro e voi di che colore lo fate il vostro albero? Scriveteci qua sotto nei commentini di che colore è il vostro albero perché noi siamo molto curiosi e soprattutto a me Piazza non sacco 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 gli alberelli di Natale Ok quindi scriveteci qua sotto l'albero di Natale che avete fatto di che colore è Adesso noi facciamo il nostro Sì Ah posso aprirlo io? Ok Ok apriamo il nostro alberello Allora come lo chiamiamo un albero si può chiamare Eh beh dovremmo dargli un nome al nostro albero di Natale perché starà con noi fino all'anno prossimo Guarda Rebi albero barrington lo chiamiamo barrington Eh eh magari lo chiamiamo Barry 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 albero Così sempre a Barry Christmas Barry Christmas Barry Christmas Ok Dai ma lui quando ci metti ad aprire questo albero io sono curiosissima voglio vedere quanto è grande Un attimo aspetta hai sempre fretta Ok ragazzi siete pronti Oh Oh Ecco qua Barry Strawberry Un albero di strawberry Ma no Barry come Merry Christmas Ok Quindi Capita un portone italiana Sì 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 va bene questa è la testa di Barry e questo è il corpo ma quanto è grande ma cos'è tutta sta roba Rebi io non so montare un albero Come non sai montare un albero Eh io non ho mai montato un albero Ok questo potrebbe essere un piccolo piccolo problema Ali d'albero Ok quindi ci sono tutti questi che sono le zampe di Barry Sono tutti i suoi rametti Sono tutti i suoi rametti Sono tutti guardi quanti Ciao Rebi Sono il Gris Sono il Gris Potremmo giocare a nascondino con i rametti di Barry Oh guarda questo cos'è Oh Oh Che cavolo è sto coso Ma io Rebi non ho idea di come si monti un albero Ma sono le lucine Le lucine ma cosa dico No Le lucine Ci siamo dimenticati le lucine No Ok adesso vado a prendere le lucine e ti raggiungo Corri Ok abbiamo finito quindi ciao ciao scatolone Eh sì abbiamo finito cioè questo è il nostro albero Si sono le istruzioni Si non ci interessa niente Iniziamo a montarlo Eh ok abbiamo un piccolo problemino Ok ci pensi tu Rebi perché io adesso me ne vado No no e non puoi tornare solo per mettere le palline Devi contribuire Ma che cavolo è quello Ma questo che cos'è Uh Ah ma andrà alla base È la base del nostro alberello Ok Quella è una sacca panni te lo dico io Eh mi sa che qua C'è qualcuno che può venire a montare l'albero di Rebi e Molly Non si capisce niente Sai guarda c'è brucia spuglia enorme Ok ce la faremo Ce la faremo Molly Faremo l'albero più bello della storia Eccoci qua ragazzi Guardate abbiamo montato il nostro Barry Adesso dobbiamo allargare tutti i rametti Cosa stai ridendo Rebi Rebi C'è il Grinch C'è il Grinch C'è il Grinch Il Grinch Il Grinch Achille ragazzi ci è venuto a trovare Perché a lui piacciono un sacco gli alberi con le palline Vero Achille? Ciao Grinch Come stai Grinch? Dai fatti vedere Saluta tutti di buon Natale a tutti ragazzi Voglio scendere la rega Voglio scendere Ad Achille dovete sapere che gli piacciono un sacco gli scatoloni E soprattutto gli piace infilarsi dentro gli scatoloni E rosicchiare tutta la carta dei regali di Natale Non è vero che sei un Grinch? Eh? Vuoi fare un giro dentro questo cartone Achille? Lo sappiamo tutti che vorresti farlo vero? Ehi Achille mettiamogli il cappellino di Natale Uuuu Allora adesso ragazzi ci sarà il lavoro più noioso da fare Cioè dovremmo aprire tutti questi rametti e metterli tutti per bene Achille cosa succede? Achille Cosa succede? Mi sa che vuole andare a fare la pipira Mi sa che deve fare qualche bisognino E' meglio se lo portiamo di sopra Saluta tutti Achille di buon Natale Ehi? Buon Natale Ciao Achille Oh mamma Gli scappa un sacco Ok Achille è andata a fare la cacchina E noi continuiamo a fare l'alberino Ok mamma mi raccomando perché dobbiamo aprire tutti quei rametti Eh cosa stai facendo? Sto a prenderami Sembrava che fosse caduto un ramo Ok Sarà un lungo lavoro Ti voglio tanto bene Come si chiama? Bene si chiama Come come si chiama? Ok Allora muoviamoci a mettere a posto tutti i rametti perché poi dovremmo mettere le luci le palline i brillantini tutto Ah Finalmente il nostro albero ce l'ho fatta Allora ho montato tutto E' stato un po' faticoso perché ho dovuto aprire questi rametti uno ad uno e molly nel frattempo se ne andate non so dove è finito molly Molli cosa stai facendo? Molli cosa stai facendo? Eh? Cosa stai facendo il nostro albero? Guarda molly è alto quanto te Cosa stai facendo il nostro albero? Cosa stai facendo il nostro albero? Sì te le smetti di mangiare Mmm è veramente buona Dobbiamo fare veloce perché poi dobbiamo attaccare ancora tutte le palline Deve arrivare la parte più bella ancora ragazzi Wow Ma quest'albero è gigante Prima cosa Bellissime Ma sono fantastiche ricopriamo la rabbia di lucina Sii Rebbe lucina Bellissima E non sono un'arena Vai metti tutte le lucine all'alberino Ok, mettiamo le lucine. Allora, mettiamo le lucine e dobbiamo partire dal basso verso l'altro. Ehi, ragazzi, mi piacerebbe Lucina. Chi non vorrebbe una Rebe Lucina a casa, eh? Rebe Lucina, muoviti, forza. Ma io non hai messo niente ancora. Senti, tu hai solo mangiato ancora. C'è un piedino sopra la Rebechina. Ehi, che schifo, i broccoli. I broccoli. Allora, dovete sapere che Molly ha rubato le calze a qualcuno. Ma non è vero, sono solo calzetti broccolosi. Non è vero? Di un po' di chi sono quei calzettini. Non sei qua del Grinch sono. No, calzo del Grinch. Calzo del Grinch. No. Slega, slega, slega. Ehi, questa è la mia parte preferita. È arrivata l'ora di addoppare il nostro olio. Guardate, abbiamo messo le lucine. C'è un mostro qua. We wish you every Christmas. Ora riesco a diventare le polline. La Rebe è un'anguilla. Sì. Ma è gigante sto roba. Adesso mi sento proprio in spirito natalizio. Dai, non ingarmugliarla. La 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 la. Mi sono intrecciata. Brava. Mettiamo le palline di Natale. Molly, avrai l'onore di inserire la prima pallina. Incominciamo dall'albero. Sì. Che bello l'albero. È fantastico. Ecco, la prima messa. Prima pallina di questo Natale. Prima pallina. Prima pallina. Prima pallina. Vai Molly, perché dovremmo metterne davvero tante. Guardate, guardate, sono bellissime. Ci sono anche azzurre, ragazzi. Cioè, sono fantastiche. Vai Molly. Se c'è una pallina. Molly. Molly. La mettiamo. Ok. Mentre metti le palline. Sì. Domanda. Vai. Come si chiama la renna di Babbo Natale? La renna Rudolph. Un applauso per Molly. Ci sono anche quelle blu da mettere. Muoviti, fa qualcosa. Sto vedendo bellissimo. Sto vedendo bellissimo. Brava Rebe. Sì. Sì. Wow, ragazzi, non ci credo. È fantastico. È bellissimo. C'è un po' di sporcizia qua. Dovremmo un po' pulire forse. Pulisci tu. Rebe, non ti sei dimenticata qualcosa? La stella. Sì, la posso mettere io? Tieni, tieni, tieni. Abbiamo messo anche questi, che è un'idea della Rebe. Guardate che belli. Li abbiamo tutti tagliati. È una bella idea per fare l'alba. È geniale. Eh, ma la Rebecchina adora il Natale. Perché è troppo bello il Natale. La posso mettere io? Dai, mettila te. Ok. Dai, dai. La puoi mettere te. No, la puoi mettere te. Rebecchina adora. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta, non mi arriva che mi ha fatto. 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, buon Natale. Buon Natale. Buon Natale. Lascialo, lascialo. Buon Natale. Aspetta, c'è un trucchetto. Ecco qua. Questi sono trucchi del mestiere. Brava. Attenzione. È troppo unana la Rebe. Non ci entra. E non ci arrivo. Dai, fammi fare a me. Aspetta, ce la devo fare. Eh, niente. Missione fallita. Dai, Molly. Metti la stella. Oh, ma è proprio bellissimo il nostro albero. Guardate, non vedo l'ora che qua sotto si riempia di regali, vero? Oh, ma... Eh, eh, bello. Tritto, debiltà. Ecco, ecco. Ma è tutto tritto. Attenzione. 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 Oh, oh, oh. Ehi, 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 ehi. Ehi, ehi, ehi. Quell'albero più grande di te, guarda, è gigante. Ah, l'albero di Natale. Mancano solo i regali. Eh, e io direi che dovremo provvedere al più presto. Allora, ragazzi, che cosa ne pensate? Eh, o non è l'albero più bello del mondo di Natale? Ragazzi, speriamo che l'albero vi sia piaciuto. Fateci sapere voi che albero avete fatto, che colori avete fatto. E ci vediamo domani con un altro fantastico video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.